De Luca è il più contagiato d'Italia, non la Campania. La Campania è una regione che non merita questa cattiva politica. Oggi noi abbiamo più contagi non per colpa dei Campani, ma per colpa di De Luca, che non ha fatto i tamponi, non fa prevenzione ed è, da questo punto di vista, incapace, totalmente incapace di governare la situazione. Ma ve lo domandate voi, come è possibile che abbiamo raddoppiato i casi lombari? Il giudizio è chiaro, si sono commessi errori.